Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, eccoci ancora una volta. Questa sera è la terza puntata con gli amici di Cosmo Life. Salutiamo subito Tiziana Franca. Buonasera a tutti. E Lidano Casoli. Buonasera. Sono tornati nei nostri studi oggi per parlare dell'argomento che riguarda la loro azienda Cosmo Life di Rio Salso. Cosmo Life si occupa anche di cosmesi. Abbiamo già parlato di Big Mama, abbiamo parlato delle solette e oggi affronteremo la cosmesi, cioè tenteremo di capire meglio su cosa si basa la cosmesi, la dermocosmesi, questo grande settore dedicato al benessere sul quale Cosmo Life applica la teoria dell'armonia vibrazionale, Lidano. Allora, armonia vibrazionale funziona in questo modo, proprio lo spiego brevemente per far comprendere, che ogni ingrediente che è composto un prodotto, quest'ingrediente emana una frequenza. Noi dobbiamo mettere insieme frequenze che tra di loro vanno in sinergia, vanno d'accordo, perché altrimenti otterremo non un'armonia ma una disarmonia vibrazionale. E se noi dobbiamo andare a trattare un inestetismo, quell'inestetismo vuol dire che si è creato una disarmonia a livello, uno squilibrio, a livello energetico. E se noi abbiamo un prodotto che non è in equilibrio, come possiamo? La domanda sorge spontanea. Dice come può riportare equilibrio a un prodotto che non ha equilibrio? E noi ci siamo basati proprio su questo, creare un prodotto in armonia vibrazionale. Quindi pensate, il concetto è chiaro e anche illuminante. È ovvio che un prodotto deve essere composto in un certo modo per poter avere un effetto positivo su poi chi lo utilizza. Consideriamo che qui si parla di prodotti destinati al viso, al corpo, ai capelli. La linea si chiama essenza di luce, se non sbaglio Tiziana. E quali sono i principali ingredienti su cui si basa questa linea? Allora, i principali ingredienti noi andiamo, è il silicio, che è un componente fondamentale nella nostra cosmesi, che noi estraiamo dall'equiseto, dal bambù e dall'ortica. E questo chi sa e ha conoscenza di come il silicio funziona, riesce a comprendere che il silicio è una parte molto importante perché arriva fino al nucleo della cellula. Noi fin da piccoli ne abbiamo una quantità enorme nel nostro corpo. Poi ogni dieci anni, e questo comunque viene spiegato anche dalla scienza, ogni dieci anni noi andiamo a perdere un 6% come percentuale più o meno. E questo non fa null'altro che andare a un invecchiamento percorso di quello che è la nostra pelle. Noi andiamo con questo sistema a riportare proprio in modo che le nostre cellule ne possono assumere in quantità e ritornare a allenire quel processo di invecchiamento percorso e magari cercare di attenuarlo il più possibile. Questo per quanto si tratta di tutti i prodotti sia per il viso che per il corpo e anche a livello tricologico noi abbiamo sempre questo sistema per far sì di riportare che i nostri prodotti riescono a essere assunti veramente perché altrimenti sappiamo che la pelle fa da schermo protettore perché la pelle fa questo e invece in questo sistema riusciamo a far sì che riesca a penetrare e a portare a porto dove deve arrivare. Sì, il concetto è molto giusto. La pelle è il nostro contatto con l'esterno, è il contatto del nostro corpo con l'ambiente che ci circonda. Quindi ovviamente ci deve anche proteggere dagli agenti che ci circondano. Tante volte ci fanno del bene, tante volte ci fanno meno bene. L'esempio classico è per esempio il sole, la stagione verso la quale ci avviamo e che va comunque ben tenuto in considerazione il fatto di proteggersi, Tiziana. Assolutamente sì, voglio dire. Poi comunque sia è fondamentale proprio sapere che per rispettare la pelle i componenti devono essere importanti, ma la pelle è proprio uno schermo che ci proietta, cioè che ci consente di non andare a gravare alcune situazioni. L'Idano ha già affrontato poco fa il concetto dell'armonia vibrazionale, ma proprio per dirla in maniera spicciola, che cosa si intende per cosmetici in armonia vibrazionale? Cioè proprio tutti gli elementi che compongono il cosmetico in realtà agiscono in sinergia rilasciando determinati tipi di vibrazioni. Voglio farti un piccolo esempio. Pensiamo, noi qui siamo in tre, decidiamo di andare a fare un viaggio. Se andiamo in armonia, d'accordo, partiremo per il viaggio, sarà un viaggio bello, un viaggio e torneremo entusiasti. Ma se non andiamo d'accordo quando abbiamo fatto un chilometro di strada, già cominciamo a litigare, a dividersi. Questo è uguale. Nel cosmetico, diciamo, l'armonia è importantissima per il risultato che deve dare, per come deve agire. Se non è in armonia, praticamente noi applichiamo un prodotto che il nostro derma non lo riconosce, non lo vuole e praticamente sì, potrà fare buon profumo, potrà fare quello che vuoi, ci rende la pelle morbida, ma non riesce a dare quel risultato che in realtà dovrebbe dare. Il concetto di armonia è davvero essenziale, essenziale in tutte le situazioni della vita. Essere in armonia con gli altri, con se stessi, con l'ambiente che ci circonda, ovviamente aiuta l'essere umano a vivere meglio, anzi, Lidano dice giustamente, è tutto. Ma quali risultati si possono ottenere, Tiziana, poi in campo, per esempio, estetico e tricologico? Allora, una cosa fondamentale che volevo proprio spiegare, noi abbiamo tantissime crema, abbiamo una crema viso, un olio viso, un siro lifting e altri prodotti come olio corpo, però l'importanza di questo processo, attraverso questa energia, questa vibrazione, fa sì che la crema può essere utilizzata da una ragazzina di 15 anni come da una persona più adulta. Perché? Perché l'armonia è proprio questo, il momento in cui il prodotto viene applicato sul viso, ad esempio, in risonanza andrà a portare quell'equilibrio che è mancante. Perciò su una ragazzina di 15 anni lo farà con la gradualità di quello che è mancante in quell'istante. Su una pelle più matura lo farà riportando quell'equilibrio che è mancante, perché noi siamo unici e nella nostra unicità ognuno ha un disequilibrio, magari uguale, ma creato da una differenza. Quanto i prodotti hanno questa frequenza e questa armonia riescono a dare proprio, e questa è la cosa importante, fondamentale, che riescono a dare degli ottimi risultati proprio perché riescono a portare quell'equilibrio che è mancante sulla pelle del viso. Perciò noi non abbiamo bisogno di avere dieci tipologie di creme, ma abbiamo proprio bisogno di avere questi componenti all'interno che riportano questo equilibrio. Certo, quindi non ci si perde tanto nel discorso per pelli giovani, per pelli mature, per pelle a metà del cammin di nostra vita. In generale proprio è un prodotto concepito per agire su qualunque tipo di pelle perché agisce in un determinato modo. Ci sono poi anche dei risultati ben evidenti, per esempio sulla questione tricologica, Tiziana, e vedremo delle immagini al riguardo che ci fanno vedere effettivamente cosa accade. Assolutamente sì, abbiamo riscontrato proprio dei risultati importanti. Logicamente abbiamo dei ricaduti importanti o non abbiamo avuto un bel infoltimento, sempre naturalmente quanto il derma ancora non è atrofizzato perché qui sappiamo che loro non possiamo più andare ad agire. Ma dove abbiamo un derma che è mancante di alcune situazioni, noi riusciamo proprio, e qui è fondamentale proprio il silicio che ci va a creare questa risonanza e ci permette di aver avuto dei bellissimi risultati, sì. Benissimo, l'abbiamo visto in queste immagini. L'idano invece ho visto che nella linea sono presenti degli oli, oli che agiscono per il corpo, per la cute, a diversi livelli. L'olio è un elemento che adesso in cosmetologia, in cosmetica, in dermocosmesi va molto perché ottiene dei buoni risultati proprio da un punto di vista dermatologico e cosmetico e sicuramente tu mi puoi confermare tutto ciò perché anche il vostro olio agisce in profondità. Dunque noi abbiamo diverse tipologie di oli, sono tutti bifasici, abbiamo un olio corpo che è fantastico e va benissimo anche come dopo sole, ma è un prodotto che rigenera, tende a rigenerare sempre il fatto, come diceva Tiziana, questo silicio all'interno in sinergia con l'olio di mandorle dolci perché era l'unico diciamo olio che andava in sinergia, abbiamo provato tanti oli e questo qui ha il potere di arrivare al nucleo della cellula, far sì che la cellula comincia a riprodurre elastina, collagene, glicoproteinio, tutto ciò che serve e si riattiva un processo di rigenerazione. Poi abbiamo un prodotto fantastico che è un olio cute. Questo olio cute serve per la caduta dei capelli, per rinforzare, per la ricrescita ma soprattutto anche, magari sono pochi i casi, però è un prodotto che riesce a far tanto, se uno dice io ho fatto lo shampoo adesso, dopo due ore già ho la cute grassa, ho la cute grassa, la rilavo di nuovo la cute, rilavo i capelli e di nuovo dopo due ore via. Questo prodotto invece tende a normalizzare questa secrezione sebacea e soprattutto poi quello che è, si accorgerà la persona che nell'arco di pochissimo tempo, dico qualche settimana, già si è stabilizzato tutto, non ha più bisogno di lavarsi la testa tutti i giorni o ogni due ore come faceva prima. E poi soprattutto, se adesso tu Antonio hai capelli, io ti do del tu perché hai capelli corti, ma se avessi capelli lunghi come la donna e ti trovi con quattro peli, pochi capelli in fondo, noi con questo prodotto riusciamo a dare la massa, la quantità, proprio una chioma fluente, quello che poi le donne cercano la maggior parte. Poi abbiamo un effetto lifting e questo sempre bifasico con l'olio e rigenera tantissimo. Uno è stanco, ha finito di lavorare, dice stasera devo uscire, benissimo, ho il viso stanco un pochettino, sai la giornata è stata lunga e allora mi faccio questa applicazione di effetto lifting e ti accorgi che per 6, 8, 10 ore hai un viso freschissimo perché ti risolleva proprio tutto. E poi abbiamo altri oli, Tiziana? Abbiamo un olio viso, sempre bifasico perché come sono bifasici, e questo olio viso riesce a dare molta naturalezza alla luminosità della pelle ed è ideale anche per l'estate perché anche per chi non è abituato a truccarsi in estate comunque con la bronzatura si utilizza molto meno, mantiene molto la bronzatura ma fa in maniera che proprio si assume una bronzatura molto naturale. Diciamo che questi componenti riescono a rispecchiare un po' le facoltà e la priorità di cui una persona ha bisogno. Tra l'altro una cosa che vorrei dire, il nostro prodotto come anche l'olio viso va benissimo anche per l'uomo, nonostante, cioè la nostra linea non è generata solo per la donna e per la ragazza ma anche l'uomo. Perché questo? Perché lavorando in sinergia non abbiamo bisogno di differenziare un prodotto da un uomo a una donna perché ritrovando il problema che trova sulla pelle riesce a riportare equilibrio, perciò è ideale sia per unisex diciamo, sia per l'uomo che per la donna. Vi dirò che mi avete fatto venire voglia di provare l'olio sia per essere più in forma quando sono davanti alle telecamere, il chiaro segno di tv, ma magari anche per affrontare meglio l'estate, scherzi a parte. Per trovare questi prodotti online, sempre facendo riferimento al vostro sito? Sì, online e anche in negozio da noi. E in negozio dove c'è, presso di voi c'è il punto vendita, chiamiamolo proprio il punto vendita, quindi presso di voi si possono trovare tutti questi. Anche online giustamente, oggigiorno si lavora tanto online perciò siamo anche... Ok, www.cosmolife.it? Sì. Perfetto, questo è il sito quindi al quale fare riferimento per trovare i prodotti. Ringraziamo Tiziana Elidano e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sarà incentrata sul Little Mama. Davvero grazie per essere stati con noi. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Buona serata a tutti, continuate a stare insieme a Rossini TV, alla prossima settimana.